e ci spostiamo adesso a milano per un altro intervento davvero speciale piccola parentesi ovviamente a tutti voi che ci state seguendo a casa invitati vi invito a scriverci a commentarci come come stiamo andando a cosa a cosa vi sta arrivando come me la sto cavando siamo quasi sono quasi arrivato alle 5 ore di diretta tra poco ci saremo vicini perché poi avremo domani e dopodomani come sapete visto tutto questo lavoro di automiglioramento abbiamo sempre margine per poter fare meglio quindi scriveteci già Mario è lì pronto a leggere tutti i vostri commenti diteci come stiamo andando detto questo ci agganciamo al mondo delle storie e dello sport con una giornalista scrittrice blogger ma anche curatrice e organizzatrice di eventi perché a lei ovviamente in questa veste oggi di cui in cui l'abbiamo invitata è una figura a cui piace raccontare lo sport e le sue protagoniste la chiamiamo in diretta Tiziana Pickler Ciao a tutti Ciao Tiziana buongiorno come stai? Buongiorno e complimenti stai andando benissimo se vuoi un feedback grazie grazie beh i feedback fanno piacere anche perché qui cara Tiziana come ti puoi immaginare sono solo in una stanza e quindi sono solo con tutta Italia sparsa nei meandri dell'etere e non c'ho nessuno qui che mi dica come stiamo andando sensazione nuova anche per me quindi grazie sei la prima che mi dà un feedback in questa mattina tra l'altro abbiamo delle cose che ci accomunano io non so e immagino che non sei stata in onda per tutta la durata dell'evento da questa mattina io alle 10 ho fatto qualcosa di molto simile perché anche a me piace raccontare mi piace raccontare le storie di sport e tu proprio questo ci salterai oggi lo sport è raccontato giusto? sì esatto io faccio questo poi bene o male giudicherete voi però sì faccio questo no assolutamente lo fai bene sempre che sia un mestiere perché per me non è un lavoro è veramente una grande passione è vero è vero una grande passione beh guarda questo lo dicevo anche stamattina quando ho avuto il piacere di parlare con il presidente del CONI Malagò io mi sono preso per le mie passioni ho la recitazione e lo sport in lo specifico le olimpiadi e devi sapere che ho fatto di mia propria iniziativa sui miei canali social durante l'estate dal 24 luglio al 9 agosto c'erano le olimpiadi ci sarebbero dovute stare le olimpiadi ce le hanno tolte visto l'anno che stiamo vivendo e allora me le sono fatte da solo sono andato tutte le mattine allo stadio dei Marmi a Roma e ho raccontato una storia di uomini e donne di sport che hanno reso grandi le olimpiadi e basta ti lascio la palla a te bravissimo cara Tiziana ti chiedo una cortesia so che sarai bravissima qui ovviamente dalla regia mi fanno segno che dobbiamo essere bravi con i tempi quindi meglio che possiamo cerchiamo di essere nel tempo dei 10 minuti così poi magari riusciamo anche a fare uno scambio a fine dell'intervento ci provo eventualmente fatemi segni a te il palco e virtuale e lo schermo Tiziana Picler grazie grazie della presentazione hai già detto tutto tu quindi io vado avanti per essere appunto nei tempi e racconto lo sport da sempre da oramai quasi 30 anni ho avuto solo negli ultimi anni però ho preso un filone che è quello di raccontare lo sport delle donne e lo faccio con grande grandissima passione adesso leggerete qui ai tempi di Nerone penserete che io ho sbagliato presentazione assolutamente no perché in questi anni di mia carriera io ho vissuto sostanzialmente un campo che per me è vocale io che non sono attenta ai social io sono partita che scrivevo gli articoli su carta e penna e poi li riportavo con la macchina da scrivere e ho fatto l'esame da giornalista professionista con la macchina da scrivere facendomi male alle dita adesso è un'evoluzione straordinaria siamo arrivati a quello che oggi definiamo essere lo storytelling sportivo che ha cambiato completamente il modo di raccontare questo sport uno storytelling che a me piace ricordare soprattutto quello che è avvenuto un po' ai tempi di Nerone si faceva esattamente la stessa cosa Nerone era quel classico imperatore che voleva essere raccontato proprio come un imperatore e quindi la celebrazione dell'uomo non tanto l'evento quanto l'emozione che quest'uomo dava oltre al fatto che nel primo secolo dopo Cristo appunto al tempo di Nerone Roma era già stata sotto già messa ben bene sotto tutta quella epopea classica che veniva dai greci è un po' quello che è accaduto nel mondo dello sport negli ultimi tempi non c'è più l'episodio che viene raccontato la cronaca ma si cerca di andare verso l'emozione l'emozionalità dell'evento e quindi raccontare gli atleti ma non raccontare l'atleta in quanto tale quanto piuttosto inserirlo in un contesto in un contesto che può essere filosofico che può essere economico che può essere politico, storico ovviamente il maestro in tutto ciò è sicuramente Federico Buffa sentire raccontare lo sport da lui non è solo sentire raccontare lo sport ma significa raccontare pezzi di storia pezzi del mondo, pezzi dell'Italia storia italiana, storia mondiale l'ultimo che ho sentito è stato anche il suo pensiero su Maradona che ci ha lasciato pochi giorni fa e questo è il cambiamento dello sport ormai non serve più la cronaca, non serve più l'evento perché la cronaca dopo pochi secondi noi ce l'abbiamo e la conosciamo tramite i social, tramite internet, tramite le dirette quindi quello che oggi c'è è l'emozione l'emozione per l'obiettivo è sempre lo stesso quello di aumentare i fan che seguono lo sport però il risultato sì è importante ma quello che serve è emozionare il pubblico dare quella sensazione di emozionalità d'altronde lo sport all'inizio del novecento doveva essere conosciuto quindi la letteratura sportiva nasce per far conoscere lo sport ci sono i comunicatori arrivano quei giornalisti che fanno conoscere lo sport che aveva l'esigenza di un messaggio comune che doveva essere conosciuto parliamo di Gianni Brera e eccolo lì che nascono termini che noi oggi usiamo regolarmente come centrocampista, zona cesarini che non sono poi oggi così intuitivi oggi si usano normalmente invece prima serviva una spiegazione oggi sappiamo che cos'è un centrocampista oggi quando noi parliamo parliamo a una platea di pubblico che al 99% sa di cosa stiamo parlando sa quali temi stiamo trattando quindi dobbiamo andare oltre creare, creare emozione perché quella che oggi va molto sui social e lo dico io che non sono una grande non ho grande dimestichezza con questi strumenti però serve l'emozione l'emozione del gesto l'emozione dell'atleta in un contesto perché lo sport va definito in un contesto storico quello che serve che ho imparato in questi anni è avere un grande rapporto con gli atleti perché oggi purtroppo i mezzi si sono moltiplicati che da un lato è sicuramente positivo dall'altro però c'è anche un surplus di comunicazione forse in alcuni casi se ne fa anche troppa e anche gli atleti fanno giustamente come giusto che sia fanno una loro selezione e quindi non è più così semplice entrare in empatia con gli atleti ci sono tanti filtri ci sono i filtri degli uffici stampa i filtri dei manager i filtri della famiglia invece costruire un buon rapporto con l'atleta quando e dove possibile e non sempre è possibile è fondamentale per questo nuovo tipo di comunicazione emozionale io vi ho messo alcune foto di atlete ma sicuramente le avrete riconosciute quindi non vado a segnalarvele io so che la presentazione di oggi l'ha fatta il presidente del CONI Malagò tra gli altri e questo è un libro che prendendo spunto da un suo lavoro editoriale appunto abbiamo fatto con un collega per dare spazio a quelle donne che nel momento in cui il presidente Malagò è diventato presidente del CONI erano passate dal ruolo di sportive, di atlete a un ruolo in diversi ambiti in ambito politico a livello regionale a livello sportivo comunque in diverse istituzioni e è stato un racconto fantastico che ci ha presentato al CONI proprio il presidente Malagò è stata una scoperta perché le donne non solo perché io sono donna ma perché quando si parla di donna bisogna sempre aggiungere una frase in più un argomento in più perché bisogna sempre non dico giustificare ma spiegare perché la donna raggiunge determinati risultati e perché c'è sempre il confronto con il mondo maschile e invece dal mio punto di vista da questa esperienza che io ho fatto ormai sono più di dieci anni che mi occupo per lo più di donne mi sono resa conto che parlare con una donna soprattutto sportiva ha un valore aggiunto vanno sempre oltre vanno oltre la prestazione quante volte ci capita di sentire delle interviste e ci rendiamo conto domanda risposta che però la risposta lascia un po' di amaro in bocca perché la risposta è scontata a volte anche la domanda è scontata e banale per carità vista dall'altra parte però parlare con una donna apre gli orizzonti come diciamo in tanti campi non solo in quello sportivo siamo multitasking le donne in ambito sportivo sono multitasking ancora di più i volti che ho inserito qui sono alcune delle donne alcune delle donne che abbiamo intervistato da Josefa Ivdem a Valentina Vezzali è stato un viaggio veramente che ha aperto che apre la mente che ci ha aiutato veramente tanto accade anche questo perché solitamente da tradizione ci sono certi mezzi di comunicazione dove sembra più difficile sfondare quel famoso muro dove è più difficile far parlare le atlete invece accade anche questo con l'intervista che ho fatto per il Sole 24 Ore a Dorothea Wider che poche settimane dopo è diventata campionessa del mondo quindi magari anche un pizzico di portiamo anche un pizzico di fortuna però ecco quando scatta quell'empatia quando si riesce a intraprendere quella giusta comunicazione emozionale ecco che poi si sfondano anche muli che tradizionalmente si può pensare che siano difficili da abbattere nella mia carriera ho scritto quattro libri tre sono più nell'ambito due anzi più nell'ambito arte e sport perché ho avviato anche questo filone però l'ultimo l'ultimo nato quello probabilmente di cui vado più orgogliosa perché è scritto a quattro mani con è veramente a quattro mani con un'atleta fantastica Sara Cardin nel libro è combatti ho scelto di vincere Sara in questo momento a casa e ci sta seguendo quindi la saluto abbiamo scritto questo libro e vi racconto come aneddoto perché io perché lo racconta sempre lei nelle presentazioni che abbiamo fatto in giro finché è stato possibile farlo io non me lo sarei minimamente aspettato ho conosciuto Sara in occasione di una fiera a Vicenza dove lei era ospite per il taglio del nastro e avevo preso appuntamento con l'ufficio stampa di questa fiera per fare un'intervista a Sara fatta l'intervista a Sara non lo so è scattato qualcosa è scattato qualcosa dopo un po' di tempo mi arriva un messaggio su Whatsapp che mi dice vuoi scrivere il libro con me con la mia autobrografia io sono rimasta abbasita perché all'inizio ho pensato che effettivamente il messaggio fosse indirizzato a un'altra persona invece poi ero veramente io abbiamo fatto questo lavoro e vederlo poi il risultato eccolo lì open accanto ad open è il successo perché per noi è stato un grande successo il ritorno sull'empatia nel senso che la prima immagine che vedete dove ci vedete microfonate era prima del libro e l'immagine successiva è la presentazione che abbiamo fatto con Malagò al coni del libro è scattato qualcosa per me è diventata una delle mie migliori amiche e Sara è campionessa del mondo è stata campionessa del mondo nel 2014 di Karate ha avuto anche lei problemi di alimentazione in questo libro ne parliamo tantissimo diffusamente lei si è messa veramente a nudo e questo è anche importante perché il discorso di empatia che vi facevo perché le donne perché le donne anche sui social i numeri stanno crescendo stanno crescendo anche lì sono anche direttrice di El Football che è il primo web magazine di calcio femminile e abbiamo fatto questa classifica recentemente appunto per misurare i follower delle ragazze sui social delle calciatrici in questo caso e il futuro il futuro sicuramente dipenderà dai risultati le donne negli ultimi tempi sono sempre più vincenti degli uomini e quindi sarà importante mantenere questo trend va anche considerato che c'è ancora molto molto spazio per crescere qui vedete i numeri ovviamente a farla da padrone sono campionesse come Federica Pellegrini Bebevio però c'è ancora moltissimo spazio per crescere e soprattutto il dato che potete vedere da queste slide che è veramente la forza delle donne è che hanno una grande grandissima redemption soprattutto sui social e questo deve essere importante anche per le grandi aziende che devono cominciare a investire seriamente nel mondo dello sport femminile non solo come uno spaccato del maschile ma perché essere donna effettivamente è bello essere atleta ancora di più e quindi io spero di aver detto tutto e di non essermi emozionata troppo e di essere stata nei tempi sì grazie grazie Tiziana sei nei tempi e come grazie mille tra l'altro storia davvero pazzesca la tua complimenti complimenti per l'evoluzione no? che le tue narrazioni poi però ho una pecca che devo confessare io non sono mai stata in Sardegna quindi saluto la Sardegna e mi riprometto che appena possibile visiterò la Sardegna allora faccio una grande pecca non ho mai messo via da in Sardegna da megafono a questa a questa tua promessa e ovviamente inutile che te lo dico terra meravigliosa vieni vieni subito ti aspettiamo anche noi per tre giorni saremo qui quindi vieni quando vuoi un grande ringraziamento a Tiziana Picler grazie a voi e come sempre linea alla regia grazie a tutti a Tiziana Picler a Tiziana Picler a Tiziana Picler